Juventus e PSV in Doveni, il rischio è veramente alto. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Non si parla di una squadra semplice, non si parla di una squadretta. Stiamo parlando di una squadra che in cinque giornate ha fatto ben 20 gol e ne ha subiti soltanto tre. Andremo ad approfondire bene quello che sarà di Juventus e PSV in Doveni, perché non possiamo sicuramente sbagliare, perché in Champions non vincerle quasi tutto è fatale per non andare agli ottavi. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, lasciate un like se vi do sarà di vostro gradimento e poi mi raccomando, commentate perché voglio sapere la vostra e poi attivate la campanellina, così non vi perderete mai un video e siamo sempre live, lei e signori e signori, i miei signori, quelli veri, quelli gommi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Penso che quando si arriva alla prima giornata di Champions non possiamo più parlare di esperimenti, ci mancherebbe altro, non possiamo parlare assolutamente di amalgama, perché quando c'è la prima di Champions e ci chiamiamo Juventus, non possiamo sicuramente cercare alibi, anche perché lo ripeto, non li cercavamo con Allegri, non li possiamo cercare oggi. È una squadra in costruzione, ci mancherebbe altro, però è la prima di Champions, un girone unico, dobbiamo quasi vincerle tutte, se vogliamo andare agli ottavi, non dica entrare tra le prime otto subito perché penso che vista la Juve contro la Roma e contro l'Empoli, un po' di pessimismo lo voglio mettere, ne metto un pizzico di pessimismo, però almeno voglio farmi play-off e per farmi play-off domani col che si vuole in Doven bisogna vincere. Perché parlavo che non c'è il tempo dell'amalgama, non c'è tempo della pazienza, non c'è tempo per dire siamo in costruzione, perché quando ci chiamiamo Juventus e c'è la prima di Champions dobbiamo essere già pronti. I nuovi acquisti devono rendersi conto che stanno indossando la maglia della Juve, però devono rendersi conto prima ancora di arrivare alla Juve. Faccio questo passo, faccio questo salto, non siamo né all'Atalanta, non siamo alla Stonvilla, non siamo alla Fiorentina, non siamo all'Ille. Questo per incitare i nuovi arrivati e nel momento in cui indossi la maglia della Juve devi diventare obbligatoriamente un supereroe. Non voglio alibi, do male la prima di Champions, non ci possiamo permettere di fare la prestazione fatta con l'Empoli, non ci possiamo permettere di fare neanche la prestazione fatta con la Roma, perché come ho presentato il PSV in 2, è una squadra pericolosissima. Il rischio è alto di perdere. È una squadra che vi ho detto già, in cinque partite, cinque vittorie, venti gol, una macchina da gol, e solo tre gol subiti. Calcolando che la Juve ha fatto solo sei gol, tra cui sei lì nelle prime due partite. Per rendervi conto, ragazzi, la differenza, è vero che sono due campionati diversi, le redivise, il campionato olandese e la Serie A, però da venti gol a sei gol la differenza è veramente un po' abissale. Un po' di paura ce l'ho, ma come dico sempre, noi siamo la Juve. Io in primi, se vuoi ti fossi, paura di nessuno. Ma devono essere giocatori in campo di dimostrare ora di essere la Juve. Lo stesso Tiago Motta, penso che deve anche lui iniziare a capire cos'è la Juve. Perché la Juve servono poche parole, poche chiacchiere. Vogliamo i fatti. Noi non vogliamo un allenatore che sappia parlare, ci mancherebbe altro, è importantissimo, presentare le conferenze stampa, sapere rispondere ai giornalisti. Ma ora quello che vogliamo, i risultati sul campo. Domani non voglio uscire sicuramente con un pareggio. Io domani voglio uscire con una vittoria. C'è poco da fare. Perché domani chi pensa che uscire con un pareggio sia una vittoria? Di Juventus non ci abbiamo capito assolutamente niente. Ma assolutamente niente. Domani allo Stadium, per un solo risultato, la vittoria. Queste partite bisogna vincere. Perché sappiamo che una partita dove non possiamo pretendere di vincere è quella col Manchester. E' quasi quasi la trasferta in Inghilterra, quella contro la Stonvilla. Le altre, onestamente, li voglio vincere tutte. Perché sono squadre inferiori alla Juve. Perché ho messo la trasferta contro la Stonvilla? Perché una trasferta inglese non è mai facile andare lì e fare il risultato, ma almeno le altre partite li voglio vincere tutte. Perché noi siamo la Juventus? Ci mancherebbe altro? Per questo vi ho detto all'inizio che a me non me ne frega, che ancora dobbiamo avere la giusta amalgama e la giusta convinzione, siamo appena arrivati, nuovi giocatori. No, quando arrivi alla Juve c'è poco da dire. C'è tempo, tempo non ce n'è. Perché lo scorso anno un mister diceva stiamo lavorando, stiamo lavorando. A marzo-aprile ancora stiamo lavorando. Ma lavorare per cosa? Lavorare per cosa a marzo-aprile? Si lavora per vincere qualcosa di importante. Se viaggi tra il quarto e il quinto posto, se non giochi le coppe, non sei competitivo, per cosa si lavora? Ecco, non voglio ripetere la stagione scorsa. Voglio ritornare a fare la Juventus. E se dobbiamo tornare a fare la Juventus, i nuovi devono rendersi conto che devono uscire fuori, come dice un termine siciliano, molto educato, i cabasise. I cabasise. Spero che ci siamo capiti. È ovvio che mi riferisco a Copp-miners, Douglas-Louis, Nico-Gonzalez, Tioran, caballe. I nuovi arrivati, li metto tutti. Non escludo uno. Perché penso che questi domani forse andranno tutti titolari. Poi domani mattina, quando poi vedremo la formazione insieme, poi capiremo meglio. Però mi rivolgo a loro nuovi. Indossate la maglia della Juve, ma dovete convincervi che la maglia della Juve non è la maglia della vostra ex squadra con tutto il rispetto. Qui non vi potete permettere «Ah beh, sbagliamo questa, la prossima poi faremo meglio». Non esiste questo. Si guarda al presente. Il presente dice «Juventus, PSV e in Doverne bisogna vincere». Però devono sapere che dall'altra parte c'è una squadra 5 partite, 5 vittorie, 20 gol fatti, 3 subiti, una macchina da golle. Una macchina perfetta anche dietro. Il campionato non è, diciamo, molto, come dire, non è tanto difficile. Però ragazzi miei, quando si tratta e si parla di Champions League, penso che hanno fatto questo girono come se fosse un campionato europeo. E allora la Juve non può avere paura del PSV in Doverne che non ha neanche storia europea. Se guardiamo la storia della Juve europea, grande storia, grande prestigio. Domani, finalmente, dopo più di un anno, sentiamo la musichetta della Champions, la musichetta di quella coppa che tutti chiamiamo maledette che non riusciamo a vincere. Abbiamo fatto nove finali. Vuol dire che fino in fondo ci arriviamo sempre. Cioè vuol dire che la Juve è una squadra che si fa rispettare. Bene, carissimi nuovi arrivati, carissimo mister che anche tu sei un nuovo arrivato e anche gli stessi giocatori che sono ormai da qualche anno alla Juve. facciamoci valere. Facciamoci valere, rispettiamo e onoriamo la maglia perché avete fatto una promessa davanti ai tifosi di quella della maglia sudarla. Contro l'embro onestamente più che sudarla l'ho visto un po' appiccicosa. La maglia la voglio vedere bagnata. Cioè vuol dire che dovete correre 90 minuti per la vittoria. Amici bianconi, se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un like, commentate, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Fino alla fine forza Juventus e io me ne vaio. Ossa benedica a tutti i picciotti. Ciao.